...all'immobiliare da un altro punto di vista. Chiamo sul palco i relatori, i partecipanti. Cassiano Sabatini, cofondatore SEO 221 Luxury Network, Armando Vitali, founder e CEO di Area C1, Matteo Brucoli, head of sales di Abilio, Alessandro Mariotti, cofounder di Baba Casa, Massimiliano Russo, founder di Desiderare Property Finding, a moderare questa tavola rotonda. Ritiamo sul palco l'amica Marcella Persola. Eccomi qua, scusatevi, passo davanti. Abbiamo fatto l'appello, siamo tutti a posto? Sì, grazie Deborah, grazie. Allora, oggi parliamo ancora di innovazione. Sappiamo che le abitudini consolidate spesso impediscono di vivere il mercato in modo innovativo, quindi abbiamo deciso di osservare il mercato immobiliare da un altro punto di vista, di fare un viaggio insieme a delle realtà che hanno cercato di esplorare dei nuovi percorsi. Inizierei con Cassiano Sabatini, 221 Luxury Network, vuole essere un marketplace, già questo termine è abbastanza innovativo, un marketplace dedicato al mercato del lusso. A quale esigenza risponde questa iniziativa? Sicuramente risponde a un'esigenza di opportunità, prima di tutto, perché ci sono dei numeri importanti in Italia, in Europa e anche a livello mondiale, che significa che in Italia più o meno tutti sappiamo che circa il 70-75% delle transazioni di lusso sono fatte con clienti internazionali. È stato appena chiuso all'ultimo report di acquisti nel primo semestre in Spagna circa 80.000 transazioni con clienti internazionali, di cui 4.000 italiani. per cui risponde, tornando alla domanda, a un'esigenza di opportunità, a un'esigenza di differenziazione, ma differenziazione come passaggio per arrivare a una vera specializzazione, specializzazione fatta cominciando a utilizzare strumenti, risorse, dinamiche, approcci completamente diversi da quelli che possono essere usati nel mercato residenziale. Questo perché è impossibile attrarre sia venditori che clienti altospendenti nazionali o internazionali facendo tutte quelle cose che abbiamo fatto fino ad oggi. È 30 anni che faccio l'agente immobiliare o perlomeno l'ho fatto fino a qualche anno fa e negli ultimi anni mi sono dedicato proprio al mercato internazionale per capirne le dinamiche. C'è un oceano di opportunità vere perché poi alla fine non è detto che certe opportunità possano essere colte solamente se hai degli immobili importanti, ma c'è l'aspetto relazionale che è ancora più importante degli immobili, perché certi immobili riesci a venderli solamente se riesci nell'arco di una carriera a sviluppare delle relazioni qualificate. Ecco, con 221 stiamo cercando di unificare tecnologia e potere delle relazioni per facilitare il lavoro degli agenti. Armando Vitali, l'altro mondo dell'immobiliare è anche il payoff di Aria C1 che è la piattaforma dedicata agli immobili commerciali. Perché questo segmento è un altro mondo? Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto non so se sei in sala, ma volevo ringraziare la dottoressa Zinstein perché alla fine del suo intervento ha fatto un endorsement importante, non a me ovviamente, ma al comparto che riguarda gli immobili commerciali, i negozi di prossimità, eccetera, eccetera. Proverò anche io a dare qualche numero. Parto da un dato, ecco perché si parla dell'altro mondo dell'immobiliare. Ci sono alcune cose su cui noi siamo i primi in Europa, ma molti questo non lo sanno. Noi abbiamo 3 milioni di immobili che hanno un affaccio su strada. Per darvi un dato è una volta e mezzo la Francia, due volte e mezzo la Germania e il triplo della Gran Bretagna. L'altro mondo dell'immobiliare perché non si conosce, non è conosciuto, è sotterraneo, ha delle dinamiche tutte sue, ma ha un impatto incredibile su tutto il sistema Italia. È come il famoso sassolino nello stagno il cui riverbero crea degli effetti pazzeschi. Il fatturato totale del comparto rappresenta il 20% del mercato immobiliare, quindi a me piace in qualche modo renderlo simile a quello che è il principio di Pareto, perché le connessioni che crea quel 20% impattano in maniera incredibile sul restante 80%. Proviamo a dare qualche numero. Ecco, una delle connessioni principali, sotterranee ma che esplode, in tutta la sua forza, è la connessione tra mercato immobiliare su strada e il commercio su strada. Quindi 3 milioni di immobili, l'abbiamo detto, è un fatturato che cuba oltre 20 miliardi di euro all'anno. Le locazioni commerciali sono circa 350 mila, è una percentuale altissima, quindi è una nicchia nella nicchia. E solo il 2% di agenti immobiliari opera spiccatamente in questo settore. Ed è fortemente connesso al mercato del commercio. Vi do due dati veloci. Di quei 3 milioni di immobili su strada ci sono 2 milioni e 300 mila di aziende attive. Quando spesso si parla di commercio in difficoltà è vero che il commercio oggi è senescente, ha bisogno di fare un salto di qualità e di adottare quella che ormai non viene nemmeno più chiamata strategia multicanale, ma una strategia multicanale, non prescinde più dal negozio fisico e dal negozio digitale. Ma il tasso di disoccupazione dei negozi su strada, non so se lo sapete, ma è identico a quello del mercato residenziale, solo che non lo vedi. Come vedi un negozio aperto e bello? Vedi anche un negozio chiuso o non lo vedi l'appartamento chiuso? Il negozio fisico a parità di incasso crea il doppio dei posti di lavoro. Il negozio fisico per ogni vendita di prodotto o servizio riversa nella sua comunità circa il 50%. Quindi se parliamo di dati immobiliari parliamo di un oceano blu per il nostro portafoglio, ma se parliamo di commercio noi alziamo l'asticella, quindi saliamo dall'identità del portafoglio, la portiamo ad un'identità emotiva e sociale e sappiamo che il punto di caduta di chi in qualche modo contribuisce ad esercitare un'influenza affinché quel negozio possa essere aperto crea quella connessione per la quale io come entità, come professionista ho soddisfatto il mio portafoglio, ma ho soddisfatto anche la mia identità emotiva e sociale nel dare un contributo decisivo a quello che è il nostro tessuto sociale, perché non ce lo dimentichiamo, e sarebbe detto prima, la qualità urbana è fondamentale anche per stabilire quali siano i prezzi degli appartamenti di quella zona, quindi senza negozi non c'è tessuto sociale, senza tessuto sociale non c'è nulla. Grazie. Da una specializzazione, Matteo Brucoli ha un'altra specializzazione, come nasce la vostra specializzazione nelle vendite di beni immobiliari e strumentali che provengono da procedure concorsuali o da vendite volontarie? Mi verrebbe da rispondere con un quote da Star Wars in una galassia molto lontana, nel senso che il viaggio di Abilio nasce nel 2011 a Faenza, in provincia, quindi lontano, sia abbastanza lontano nel tempo, ma sicuramente lontano dallo spazio, soprattutto dal baricentro del mercato immobiliare da cui oggi parliamo. È nata dal, quando Renato Ciccarelli, l'attuale fondatore, l'attuale CEO di Abilio, fonda IT Auction, una casa d'aste online che gestiva per conto delle procedure concorsuali, quindi ai tribunali, processi di vendita di beni immobiliari. Poi negli anni abbiamo aperto mercati contigui a quelli in cui già operavamo. Nel 2013 abbiamo, ci siamo affacciati all'immobiliare, sempre per conto delle procedure concorsuali. Nel 2014 siamo stati il primo soggetto a giudicare, con un processo interamente telematico, interamente digitale, un bene immobile. era un appartamento a Sevignano sul Rubicone e eravamo tutti molto tesi quel pomeriggio in ufficio. Nel 2017 abbiamo iniziato, siamo affacciati al mercato libero gestendo prodotto di stress, quindi beni provenienti da contratti di leasing risolti o rimpossessati dagli istituti. Nel 2019 entriamo a far parte del gruppo Illimiti, prima dentro integrati nella società di servicing in Neprix e poi nel 21, nel 22 ad aprile di quest'anno, invece come società a sé stante. ad aprile del 21 lanciamo un nuovo portale Quimmo che rispecchia una visione del mercato immobiliare che abbiamo maturato lungo questo percorso che vi ho raccontato, che è un percorso che dal molto specifico per approssimazioni successive si è avvicinato al mercato principale. Pensiamo che il mercato immobiliare debba essere visto come un mercato unico immobiliare in cui la provenienza del prodotto e la procedura con cui ce lo si aggiudica o lo si acquista stanno in background sullo sfondo. Non devono essere il focus del delle non devono essere i razionali della scelta o delle valutazioni dei clienti compratori ma vogliamo mettere al centro il prodotto l'asset e le necessità dei compratori. Grazie. Alessandro Mariotto con Baba Casa Vettrina Immobiliare e Lead Generation vanno su mobile attraverso applicando il modello paghi solo ciò che decidi di utilizzare quindi pay as you go. qual è la vostra visione sul futuro degli annunci immobiliari? Noi come Baba Casa abbiamo iniziato questo progetto nel marzo 2021 con l'idea di creare una nuova piattaforma che fosse solo mobile per la pubblicazione degli annunci immobiliari con la caratteristica che non si paga per pubblicare gli immobili per pubblicare gli annunci quindi si pubblica gratuitamente non ci sono fee non ci sono canoni ma si paga solo nel momento in cui si riceve l'appuntamento per la visita di uno specifico immobile quindi l'agente immobiliare può direttamente o tramite i gestionali collegati pubblicare un annuncio di vendita su Baba Casa può definire un calendario per le visite su quell'immobile e il cliente finale tramite l'app può direttamente fissare un appuntamento per visitare l'immobile solo nel momento in cui l'agenzia immobiliare accetta quell'appuntamento in automatico viene pagato quel lead quindi l'idea è quella di semplificare diciamo l'operatività degli agenti immobiliari annullando i costi di pubblicazione e semplificando diciamo la qualificazione dei lead che arrivano perché non sono richieste generiche o non sono email ma sono direttamente appuntamenti di visita quindi diciamo la nostra visione è quella un po' abbiamo visto prima nell'intervento precedente di questi clienti più giovani che hanno diverse esigenze anche di interazione quindi l'idea è quella di muoverci su questo tipo di clienti che sono più mobile e che sono abituati a interagire direttamente in maniera più diretta con le applicazioni massimiliano russo in questo viaggio che stiamo facendo sull'immobiliare da un altro punto di vista voi avete un messaggio abbastanza chiaramente provocatorio la consulenza di parte ecco in che modo la consulenza di parte che state portando avanti è un mercato che si può considerare profittevole per gli agenti anche un cambiamento importante rispetto a tutto ciò che è stato vissuto fino adesso si contrappone innanzitutto alla consulenza super partes a cui siamo sempre stati abituati diciamo che abbiamo provato a metterci dopo un'esperienza nell'ambito corporate dove non ci sono mediatore ma ci sono advisor di una parte piuttosto che dell'altra che si confrontano e si incontrano per fare gli interessi rispettivi di ogni cliente ci siamo chiesti ci siamo messi innanzitutto nei panni di un cliente in particolare l'acquirente che ha necessità di trovare un immobile ma ha bisogno di qualcuno che lo aiuti anche nel percorso di identificazione del bene di sicurezza dell'acquisto e questo oggettivamente in un mercato come il nostro dove quello classico diciamo dove la intermediazione super partes propende più verso il venditore perché l'agente immobiliare prende l'immobile in vita fa l'interesse principalmente al venditore e incontra l'acquirente un po' come incidente di percorso perché serve per poter concludere la vendita e quindi l'acquirente rimane un po' usato tra virgolette nella transazione invece l'idea è quella di prendendo spunto anche dagli mercati anglosassoni americani canadesi di offrire questo servizio di property finding e quindi di consulenza specifica dedicata all'acquirente affinché possa esprimere le proprie esigenze di acquisto avere un consulente che possa andare a lavorare sul mercato in collaborazione o non solo perché una delle difficoltà del nostro mercato è che gli agenti immobiliari difficilmente collaborano se non hanno un incentivo economico quindi le logiche per rendere profittevole questo tipo di attività di property finding sono proprio quelle di mettere nelle condizioni tramite un incarico in esclusiva qualificato regolamentato con una fia di ingaggio e una fia successo la possibilità di collaborare con il 100% degli immobili sul mercato garantendo al collega con cui si chiede la collaborazione di non compromettere il proprio fatturato allora in questo modo funziona però è un modo molto più difficile rispetto a quello a cui sono abituati tanti che pensano che la collaborazione sia una cosa dovuta da parte di tutti ed è stata un po' anche la criticità dei sistemi MLS che hanno sempre fatto fatica a decollare in Italia quindi affinché possa essere profittevole per un agente immobiliare deve avere un approccio diverso e deve avere il coraggio di porsi nei confronti del proprio cliente come un vero consulente chiedendo fidi di ingaggio chiedendo un incarico esclusiva e chiedendo una fia successo che possa dare soddisfazione all'operazione e fare in modo che possa andare a buon fine altrimenti non funziona c'è sempre un po' la convinzione che l'acquirente subisca un po' la gente visto che spesso non lo sceglie anche se la gente è sicuramente super partes quindi fa le parti di entrambi però molto spesso nei clienti si sente dire che si ha la convinzione che sia spesso dalla parte del venditore il cliente sceglie l'immobile poi trova attaccato un agente immobiliare che se è fortunato è un bravo professionista che lo tutela in maniera super partes per cui senza propendere nei confronti del venditore quindi cercando di far incontrare entrambe le parti per concludere l'affare e in alcuni casi si trova qualche ed uno che non dà nessun tipo di valore aggiunto e questo è uno dei problemi della qualità della nostra categoria che non viene percepita da tutti i clienti anche per questo motivo ritorniamo un po' a parlare di lusso con Cassiano Sabatini prima abbiamo parlato del mercato delle potenzialità delle prospettive ecco quali sono però le categorie di agenti che potrebbero affiliarsi e diventare vostri partner e soprattutto quali sono i vantaggi che potrebbero avere nel diventare partner allora affiliazione è una parola che non calza per noi siamo una società che vende servizi di marketing e tecnologia per quanto riguarda il profilo dell'agente non c'è un profilo preciso abbiamo tantissime in questo momento abbiamo circa 550 agenzie e 5500 agenti abbiamo all'interno gruppi come Brown Harry Stevens a New York con 5500 agenti e circa controllo del 25% del mercato dell'immobiliare di lusso su Manhattan e poi magari possiamo avere il piccolo agente a Madrid invece che a Roma a Milano o a Forte dei Marmi che ha esigenza di questo tipo di prodotto per cui ha bisogno di una tecnologia che gli semplifichi il lavoro quello che abbiamo fatto abbiamo digitalizzato tutti i modelli di business che lavorano in contemporanea con due CRM che si scambiano informazioni uno dedicato per gli agenti e uno dedicato per i clienti all'interno è possibile gestire affitti brevi organizzare delle aste è possibile fare verifica su 4 miliardi e mezzo di persone ma questo perché spesso e volentieri accade quando si comincia a lavorare su immobili da 10, 20, 30 milioni arrivano dei lead è anche difficile valutare la qualità delle persone magari questo lead arriva da 15 mila chilometri di distanza ecco allora il sistema è in tempo reale ci rilascia un report e ci è in grado di dirci se questa persona è sottoposta a procedure antiriciclaggio oppure se è sottoposta a persone politicamente esposte e via dicendo però ripeto la tecnologia è solamente una piccola parte quello che quello che credo che alla fine unisce sia proprio questa necessità di semplificare accelerare e non perdere nemmeno un'opportunità che il mercato può offrire ok grazie Armando Vitali si parla molto del valutatore di Area C1 in un mercato però denso che cosa perché avete pensato di creare un vostro valutatore e in che cosa consiste mercato denso ma la risposta potrebbe essere banale perché non c'era nel senso che in un'epoca in cui si parla molto di AVM un software di valutazione così verticale sul mercato immobiliare su strada non esisteva e l'obiettivo è quello di prima è quello di alzare l'asticella della qualità ma anche della quantità degli agenti immobiliari che decidano di occuparsi di questo comparto e quindi fornirgli uno strumento che in qualche modo lo possa agevolare peraltro è da oggi online quindi abbiamo aspettato l'evento Sinergie per poterlo pubblicare online e le percentuali attualmente dei test ci restituiscono risultati molto incoraggianti siamo chiaramente ancora in fase beta però vi do un dato è stato pensato il valutatore soprattutto per le locazioni commerciali perché come ho detto prima nel mondo immobiliare commerciale le locazioni commerciali hanno un peso incredibile molto più delle vendite otto imprenditori su dieci erogano esercitano la loro attività attraverso un contratto di locazione commerciale quindi funziona molto bene sulle locazioni e dato il prezzo effettivo ad oggi abbiamo una rispondenza che sfiora il 90% di efficacia contro ad esempio l'OMI che noi addetti ai lavori sappiamo benissimo che non è strumento per poter contribuire a fare una valutazione ma sappiamo anche che invece fuori da qua molti lo considerano come tale l'OMI restituisce una percentuale di circa il 51% quindi in un mondo in cui è difficilissimo imbrigliare il valore di un negozio noi abbiamo fatto un salto siderale in avanti che peraltro a breve integreremo con l'interno del report con tutta una serie di analisi di geomarketing socio-economiche dell'area perché vogliamo fornire al collega agente immobiliare uno strumento che sia di grande livello affinché possa mostrare al suo cliente effettivamente non solo quanto vale il suo immobile ma in quale contesto si va a collocare quindi fondamentalmente è questo il punto con una particolarità AVM vuol dire automazione in qualche modo ecco in questo caso il punto di gatuta quindi l'ultimo miglio della valutazione è ancora a forte appannaggio del fattore umano e del capitale umano quasi in ossequio a quella strategia omnicanale di cui ho parlato prima dove l'elemento digitale e quello fisico rimane imprescindibile offrendo sempre alla sensibilità e l'esperienza della gente immobiliare che deve comunque capire di che cosa si sta parlando la possibilità di poter inserire secondo le sue opinioni le sue idee la sua esperienza alcuni parametri che restituiscono poi quello che è il prezzo dell'immobile l'obiettivo è sempre quello fornire qualità al mercato in modo tale che il mercato cresca in un meccanismo in cui fondamentalmente tutti possiamo vincere Matteo Bruco di digitale sì però sappiamo quanto è importante anche il presidio il contatto umano ecco che opportunità ci sono in abilio per gli agenti immobiliari il nostro è un business di persone rimarrà di persone e non crediamo nella disintermediazione o nel metaverso degli agenti gli immobili si toccano ci si entra ci si incontra e passano di mano quando un compratore un venditore hanno in mezzo hanno bisogno e sono supportati da un consulente quindi la ecco mi rifaccio un po' il nome della società Abilio vuole essere un abilitatore e la tecnologia per noi deve essere una tecnologia utile a semplificare velocizzare scalare processi tutti quei processi che possono essere semplificati scalati ed automatizzati ma rimane l'appuntamento di vendita l'appuntamento di acquisizione rimangono dei momenti in cui la relazione in cui non si può secondo noi prescindere dalla relazione quindi il nostro rapporto noi collaboriamo già adesso con molti mediatori abbiamo progettualità in corso che nel 23 ci porteranno a uscire con una proposta di collaborazione strutturata e ecco quali sono i mediatori con cui vorremmo collaborare vorremmo collaborare con tutti gli operatori tutti gli agenti immobiliari che sono interessati a quel concetto di mercato unico immobiliare di cui parlavo prima quindi che è un mercato fatto da prodotto distressed ma anche prodotto performing e prodotto residenziale ma anche prodotto non residenziale compreso il commercio Alessandro Mariotti prima ci ha presentato quelle che sono le vostre idee come vedete l'evoluzione degli annunci immobiliari ma quali sono i vantaggi a portata di mano degli agenti e come possono mettere a frutto le potenzialità che offrite con Babacasa sì allora innanzitutto c'è il vantaggio diciamo economico nel senso che comunque per pubblicare su Babacasa non si pagano abbonamenti o canoni il secondo c'è un vantaggio importante operativo cioè ogni agente immobiliare consuma ore e ore del proprio tempo per qualificare i lead per qualificare le richieste generico le mail che arrivano e molto spesso è anche difficile quantificare quindi quanti appuntamenti ho avuto in relazione alle mail che ho ricevuto tutto questo con Babacasa non c'è più perché ogni volta che arriva un email ogni volta che arriva una comunicazione è un appuntamento di visita o un appuntamento di acquisizione quindi diciamo c'è il vantaggio economico ma c'è anche il vantaggio nel processo secondo c'è anche un vantaggio organizzativo gestionale per ogni immobile io posso stabilire gli orari di visita e quindi posso dire che questo immobile è disponibile per la visita lunedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 18 o in determinate fasce orarie quindi c'è anche un vantaggio gestionale legato alla gestione di tutti alla gestione delle visite degli immobili quindi credo che in generale siano questi vantaggi c'è anche un ulteriore fatto che Babacasa offre la possibilità per esempio di commentare agenzie immobili quindi c'è anche il vantaggio di poter ricevere feedback positivi di poter ricevere feedback che è da parte del cliente finale se si è collaborato in maniera produttiva con un'agenzia nell'acquisto o nella vendita quindi c'è un po' il vantaggio di entrare in questo nuovo mondo mobile che è più automatizzato più interattivo innovativo giusto più innovativo più innovativo che è un po' la parola d'ordine torniamo a parlare della consulenza di parte che poi mi incuriosisce con Massimiliano Russo cercando di capire quali sono gli ingredienti per poterla fornire cioè magari il sogno di ciascun agente è quello di rendersi un po' farsi ricordare rendersi magari indimenticabile dal cliente come la consulenza di parte può cavalcare questo allora innanzitutto con la coerenza nel senso che bisogna cercare di essere credibili nel tempo nelle azioni quindi non solo in maniera teorica molti colleghi molte agenti immobiliari mettono tra i loro servizi ad esempio il property finding in effetti quando ti rendi conto analizzi la modalità operativa semplicemente gestiscono delle richieste clienti qualificate ed è una cosa diversa rispetto che offrire una consulenza di parte quindi riuscire a fare in modo di mettere in atto tutte quelle procedure che dicevamo prima quindi un incarico in esclusiva una fee di ingaggio una fee a successo e soprattutto la possibilità di poter collaborare in maniera coerente quindi che funzioni con i colleghi per poter mettere a terra questo progetto quindi la coerenza è la cosa principale e noi abbiamo cercato di qualificarla sotto un cappello quando abbiamo creato otto anni fa desiderare abbiamo detto vogliamo cercare di strutturare questo tipo di progetto sperimentando cercando di prendere ciò che di buono era stato fatto all'estero ciò che di buono era sperimentato già in Italia e man mano l'abbiamo affidato nel tempo in otto anni abbiamo raggiunto un equilibrio per il quale oggi possiamo poter dire di aver raggiunto una metodologia efficace questa è la cosa principale quindi questa credibilità certificata eventualmente da un marchio deve poi avere la propria contezza con la correttezza nel senso che essere consulente di parte vuol dire non arrivare per forza alla conclusione di un affare se non ci sono i presupposti nell'interesse del proprio cliente altrimenti si rischia di diventare quel mediatore super partes che ha un unico scopo che è quello di riuscire a chiudere l'affare accontentando un po' non accontentando un po' l'altro il consulente di parte deve accontentare solo e esclusivamente il suo cliente rischiando di perdere l'affare e questo porta maggiore credibilità l'ultimo aspetto importante per farsi ricordare è la user experience il cliente deve avere una esperienza di acquisto in particolare in questo caso piacevole non deve venire a conoscenze di tutte le magagne problematiche che ci sono devi offrire un servizio accompagnarlo con le tue competenze dall'inizio alla fine e deve avere modo di poter parlare bene di te perché l'hai aiutato a risolvere un'esigenza non un problema un'esigenza perché molti pensano che siano solo problemi alcune cose vanno anche lisce come l'olio ma il cliente deve percepire sempre un'esperienza piacevole da poter ricordare nel tempo soprattutto nell'ambito residenziale la casa è un ambiente che si vive non si può pensare di avere un'esperienza negativa in un ambiente dove si pensa di fare un progetto di vita allora io vi ringrazio ringrazio i miei ospiti per questo viaggio nel mondo immobiliare alternativo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti